Buonasera signori, intervista migliore in campo Alessio Amato dell'Italia, partita poi terminata contro il Brasile, punteggio? Vai tanto a tre, 9-10 a tre. Bella partita comunque, avete già avuto una squadra bella tosta, solo che sono un po' innervositi per l'arbitro. Come è andata la partita? All'inizio è stato un po' duro a segnare, siamo andati sul 2-0, poi si sono portati sul 2-1, poi siamo riusciti a riprenderci. Corporenti ha iniziato a fare le sue scenate e ci stava innervosendo noi, poi alla fine si sono ripresi mentalmente e abbiamo fatto il nostro gioco. Complimenti, complimenti, vuoi ringraziare qualcuno? Aurelio De Chiara lo zoppo, Aurelio De Chiara lo zoppo. Vabbè, Aurelio De Chiara lo zoppo. Va bene, va bene, bravissimo Alessio, complimenti per l'Italia. Grazie, ciao.